no se non sei e benvenuti questo nuovo video in cui siamo in un server è finito di girarti se tipo saltato il ciao vabbè fa niente vai sei parte ciao ciao è il ciao che prima che ciao l'uomo fatto di silver no hai dire di ferro mi sa perchè sono silver no è silver si no se non perchè tu c'hai l'armatura terza perchè non posso picchiarlo no 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 per chi si è perso il live di ieri abbiamo fatto il live ragazzi sta su tutti i canali andate sui canali tranne quello del soul eh grazie a tante c'è una connessione si una connessione pixel ok e allora abbiamo fatto le quest perchè tipo abbiamo verso il mondo però tra l'altro momento siamo tornati vivi e oggi andremo perchè ci sei fatto una moto di infatti perchè la gente spreca il ferro così a caso cioè no perchè sono uno spregone di ferro andiamo su allora ci partiamo ci siamo pronti ci siamo pronti ci siamo pronti ci siamo pronti sono pronti sono pronti sono pronti ok siamo pronti ad attaccarsi oh che cacchio è quello che ha preso un colpo da dove è uscito allora siamo pronti ad andare a beccare i nostri cari amici chiamati Andrew c'è un ragno che ti segue sotto l'unica cosa che ci prego che è ma dove ti distrutto tutto sai qua allora lo prendi spanneremo un altro bioma e lo ruberemo ancora l'altro ok qua c'è l'altro tutto tardi quanto? no lascia perdere lascia perdere lascia perdere scendiamo questo qua lo possiamo prendere questo è un po' difficile questo è tutto quarto no no serio si con il quarto è tutto quarto lo so sentito che c'è rotto non lo so vabbè noi ci mettiamo a squadra altro quarto no serio dai beh lo prenderemo ragazzi tranquilli dai poi lo prendiamo dai ragazzi abbiamo armature in quarto dobbiamo armi in quarto abbiamo tutto in quarto in questo mondo aspetta 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 l'armatura dovrebbe essere armature in quarto beh stai zitto dai si fa comunque ok cosa facciamo in questo episodio? andremo a trovare i ragnetti che sono in teoria dobbiamo scendere giù giusto? ah vuoi scendere giù prima? chi no? ci vuole fare qualcosa di poxa di poxa è di qua giusto eh si qualcuno le scariche aggiustate magari eh su questa da sinistra ok gli altri possiamo togliere in teoria tanto non vabbè si ce l'abbiamo non è un problema allora dovrebbe essere se non sbaglio giù 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 e basta che sentiamo l'audio sentite l'audio da qua era senti che casino era un po' più a sinistra eh era un po' più a sinistra di neocchio aeremo più sopra e' più sopra mi sa e' molto ma è stato che non è stato fatto a fare e' fammi mangiare no sono storto volete poi sono un po storto poi è un po storto e' guarda da qua la fai son ok io dovrei essere allineato dietro di te alfa aspettate aspettate ce la vede le torce ce la vede le torce no troppo basso la trovate la trovate la trovate aiuto 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 i tuoi che li sono massacrano non è entrato qua che è stato non lo sarà io li sto massacrando più di sold chiudi qua ma un giorno c'è da chiudere non posso entrare come no si che posso entrare a mettonici la raga ma dove siete che porta entra ma che fai venite qui raga di qua ma che fai due blocchi vabbè apposta andiamo venite qui diamo la parola delle torce non è no non è non è non è vado a prendere vado a prendere vado a prendere le torce vado a prendere vado a prendere il bianco che per bianco che cos'è il bianco non è quello che sta per esplodere ecco interessante aspettiamo che cosa che è successo è un creeper ti ha fatto sponf per aver impietuto di terra ma no ok perfetto allora siamo uno torce facendo anche una pala va la pala ce l'abbiamo molto da porto va mi dobbiamo fare i giri sponfato di terra qua dentro allora dovremmo avere dove le avete messe le torce comunque vorrei far notare che io non vedo niente non avete pensato ah con le quali allora ho ho fatto una ascia e una pala ok io ora ci vedo ok arriva arrivaremo dai 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 stiamo aspettando te usiamo le pare cioè le spade OP eh spade OP che sono fatti di quarzo perché il quarzo è bello no le spade storte quelle l'ho intendo ah quelle di legno ok wow utilità eh dimmi l'utilità di quelle di legno eh mi spieghi un attimo perché ah avete trovato eh sande sande oh cristo sande oh che c'è ragazzi questo secondo c'è ma c'è un mirage qua che vuole uccidere porca no 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 cosa è esploso no no è solo un creeper di terra tranquillo questi creeper di terra ho dicendo faccio più dove sei Ulisse è bello che sono pericolosi perché ti fanno saltare e ti chiudono l'altro aia porca ho preso un sacco di male ecoli se ecoli se namo dov'è namo in qua aia non è andermi che mi ha colpito vero pronto non lo vedo dov'è vai in passare vai sol torcia Ulisse torcia tutto è un genio ma non c'era uno spawner una volta qui poi sotto è sotto la terra ok torcialo tutto Ulisse vai torcialo torcialo aspetta torcialo torcialo eh ma se su te levi magari eh riuscite a pezzarlo comunque che volete vabbè fai zitto perché sono intelligente io vorrei far notare una cosa a parte questa cesta che è piena di wow farm e block farm block perfetto possiamo fare farm c'è pure l'apatite e vorrei far notare di là che c'è una sulla mappa vedete la specie di occhio che cos'è cacchio era cacchio sta succedendo ragà qualcosa si è rotto non sono stato io ma che nemmeno incazzare io così cosa si scendere può così io mi c'entri la quest ah abbiamo trovato quale si quella della quest ti ricordi quello lì che abbiamo detto ah la pastura devo trovare si sta qua sta qua basta ok vabbè faccio fai un attimo dei blocchi di coppia ma perché è zonata la sotto aspetta passati che c'è guardi gli animali no 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 passati oh enderman anche se la vacca quanto l'odio è caduto molto pure nel coso avvetta l'ora l'ora ok dovesse aver completato la pastura teoricamente vediamo un po' si nice aspetta aspetta mancano 10.000 non vorrei dire niente allora che facciamo non è problema lo siming task 10.000 devo nemmeno a averne sai guarda che stiamo stiamo rovinando tutto il problema ah qui sotto c'era qualcosa ricordate la cesta qui sotto ah è vero lì se c'è la cesta prendi Allora qui ci sono mucca, maiale e cavallo Io queste mucche e i maiali li voglio Lo so però è un po' complicato Perché non c'abbiamo il lazzo E uno Dobbiamo prenderle manualmente piano piano una alla volta Oh delle uova Di orsi Allora le uccido No uove di orsi No questi animali dico No E allora torciamo tutto per evitare che spawni qualcosa Torcia Giù sotto Allora con F7 possiamo vedere dov'è che dobbiamo torciare Solo che soltanto il mio piccolo intelligente amico Mi dice che c'è uno scheletro gigantesco Volemo morire Mori male E il sol muore Vabbè quale è normale Eh no piazzale qui sopra Non vuole finire Mettile gli animali così non spawnano qui gli animali Sulla bedrock chi se ne frega Vabbè Ma poi non spawnano sulla bedrock chi si Sì che spawnano sulla bedrock Sì Allora tutto là sotto è tutto un mega spawner gigantesco Non lo so volevo morire Ma stacco Fate giù Guardate non uccidere nessuno Non c'è nessuno Non c'è un altro Ma c'è un altro Ma c'è un altro Ahia E' torciato tutto Eh si sa però Devo un attimo far una cosa All'aspetto secondo Ok devo torciare anche qua Devo torciare Sennò arriva la gente E anche qui sopra Ma c'è un altro E' torciato E' torciato Ok tutto giustato Perfetto Ma non c'è Ma hai preso le cose No Non c'è No non c'è Qui sta Porca vacca sotto D'acqua Mi devo cadere una strada No questo qua quello vecchio No solo quello No c'erano due di tombe No io l'ho presa io Ah ok allora hai preso quello sbagliato Che non c'è Torniamo No andiamo in giro L'ho già presa Ma la cesta al centro L'hai presa quella sotto 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 Sì sì Eh appunto Che andiamo Ragazzi ci andiamo Torniamoci dai Ah torci un attimo Qui sotto Che qualcuno ha lasciato qualche punto Qui spavano i mob Eh io non c'ho più torci No dai Finito tutto Eh le ho fatte anche io Vabbè dai dai Dove le facciamo Non è un problema Non è un problema Vabbè io prendo questi farm block Che stanno nella cesta Perché me li porto via Perché queste sono farm di alberi Ok Eh io Torno su E andiamo a vedere Un attimo Allora pasturre Facciamo giusto Sì Eh allora il problema È che spawn Non si stronti mob Vabbè dettagli Ah fatevi prendere un attimo Sta cosa sta Sadart Ma dove sei Che tanto Li buttano qua Ma sta tornando Ma porca Io sono rimasto qui Dove sei rimasto Sono rimasto giù Non capito Dove siete passati Scusate Non ho visto Chi è che ha fatto due metri Passaggi segreti Ma quanto salgo veloce Se scale Ma mia sono un flash Sono belli No Se scale sono bellissima Che tipo Passano come se non ci fosse Qui c'è spawn Qui c'è spawn di mob E qui c'è spawn di mob Vedo che devo cambiare un attimo Ok fatto Come sono spawnati Quei ragni là sotto Dai serio Eh perché spawnano comunque Ma come spawnano comunque Stai zitto Spawnano comunque Allora Aiao che vuoi Andi di mezzo Muori Bello quello Ma ho rotto il piccone Vado sopra È lui Muo da sopra E scendono gli stronzi Io ho tipo sbagliato strada Quello che non ho notato Penso solo No Io so Che hai visto Che hai fatto Qualcosa di bello Ho visto Che c'è Che è Che hai visto Esprimiti Comunica Ti dico subito Come si chiama Che è l'ender core No Ma dove Ma dove Che sei Sorprendi Ora Cos'è L'ender core Ah Ma che cos'è Puri ti odio Dove è finito Dove è finito Ah Ok preso Andiamo Ok io metto a scavare il quarto No scherzo Ok l'ender core ci servirà Perché possiamo fare anche l'ender No vabbè Aspettate Cioè finiamo una missione Andiamo a farci le mele Faccio io le mele Che io sono bravo Brava hai capito già Ok Io sto scavando il quarto Lui Lui è un quarto Io ho il quarto Il mio quarto Tutto mio Si dica il quarto No ma Lo sto fregando tutto io Un quarto Il quarto Omane Perfetto Ma se scaviamo di sotto Cosa c'è sotto Allora no giusto per curiosità No se noi mettiamo il quarto Dentro la cosa Che ci dà Dentro la quarta Non ci dà niente il quarto Il quarto Ci dà Ah no si Ci dà L'alluminio L'alluminio E cosfato Che schifo Lui ne è pospato Sì Allora Ci servirà a fare Delle mele Le mele si fanno Quindi ecco Si fanno con marlene No si fanno con acqua E maliciacid Che si fa Quanto carbonio Se idrogeno Vabbè l'abbiamo già fatto Vedi con questa idea Facciamo l'arvolo No vabbè Perché devo trovare Devo trovare la roba Non tanto E la cesta Era con marlene Clemate Che Chi sei Chi sei te che attacchi me Come osi Cioè Vuol dire che mi stai attaccando Cioè c'è andato le cavalcature Del cavallo Io non vorrei dire niente Sì perché c'erano i cavalli Possiamo prendere i cavalli Eh cerca Alle miele Sopo calcolato 5 in centenze book Con Torse Fetter falling Respiration Project Reaction protection E far protection Oh mio Dio A me mi è capitato A me interface Makeable Coveable Coveable E transition lane E un melone A me mi è uscita una Balla di fieno Una 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 Hay bale Una sola Noi avevamo un sacco di Sottini Ma ragazzi abbiamo un stack C'è uno stack in più No mi ricordo Tu giochino troppo subito Ragazzi pay to win Pay to win Travano 5 stack Ce la facciamo Eh sì mi sape sì Con i coin che abbiamo preso adesso Sì Li ho fatti io adesso Ok Ho fatto io 5 stack Perfetto Ok dato che siamo in vena di sminaggio Facciamo quella cosa extra Che ci ha dato Il linear the light Però prendi Uh 5 Che bello 50 di ogni vetro Utilità Aspetta che Non l'abbiamo fatto vedere Eh prendi a pay to win Fa vare Hai fatto a pay to win Ok Ah vi dispiace se Tipo Distruggo Un po' di sugar cane Stato non ci servono Perfetto Ok non ero Eh vabbè 16 stack Devo avere Di che Di che cosa 16 Lava suite Per avere Direttamente Your class Un altro No raga io ho 2 Ho 2 uova d'oro Serio Out Uranium ore Mmm l'oranio Questa che hai Allora 2 uova d'oro Stav Figata Quelle per fare i minimi Ok Io se ne fa tempo Facendo tipo Chimica Brutto Tratted glowstone Allora Eh Dobbiamo trovare Dobbiamo trovare una scusa missione Ragazzi Se vi ricordate Il minor the light Che viene prima Della bio stena No perché altro ce lo dà Come premio Perché noi abbiamo fatto Quella missione Dobbiamo costare Il diamante La cobblestone Dice Siccome vi piace sminare Io vi do il bioma Dello smino Cos'è andata sminare E sapete che c'è la cosa bella Che nemmeno 3 Ne abbiamo Sì abbiamo 3 biomi Di sminare C'è la io Ok Andiamo a caricarlo Andiamo a caricarlo Prima però Dobbiamo far uscire Sto coso Cos'è questo coso Io faccio delle altre chest Intanto Sulla hai raccolto Che Sa come lo ritrattavo Basta metterlo uno E lo mette dentro Aspetta però non fare Devo toglierlo da qui tanto Devo uscirlo Non c'è bisogno Puoi direttamente Scriver Dov'è Oh No Ok No come no Non c'è bisogno Vabbè si ma No perché se tu lo estrai Puoi anche prenderlo allo stesso tempo Cioè se tu lo metti qui Te lo estrai E lo prende Cioè prende quello che c'è E tira fuori quello che c'è dentro Oh mio Dio No raga Che figo Guarda c'è una miniera al centro Avevo fatto un minero Aspetta aspetta Lo metto in render chest L'incluso in chamber Che sappiamo che è quello lì Che abbiamo Voi però non lo vedete Perché render chest Ma giustissimo Allora T'ha ragione Poi a lui Ah ce l'ha messo a posta L'ender chest Per noi Che mette la roba personale Sa sa Guarda qua Guarda questa Guarda questa Che cos'è Ah il corte ho preso io Quello si dirà Per fare probabilmente qualcosa di utile Allora buttiamolo nella chiamica al decomposer Dai vermo Ti picchio Ah ma ci sono le scalette Ci sono Guarda che chiamica al decomposer Mi ha fatto un sacco di roba Quindi devo prenderla Dami un secondo Te ma anche che Questo coso fa un bottino di roba Ma questa mela che ci faccia Ma mangio Mangia Che ti fa Perché ci sono due Cioè tre pre M interface Preconfigurati Dove? Qua dentro Perché io l'ho piattuto per terra Eh su gel Eh si Fa niente Allora Io metterei Tutti i cosi Guarda questa c'è Guarda questa c'è Quanto carbonio e idrogeno C'ha Sai Sai quanto Quanto di quel carbonio Possiamo farci No 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 1 2 3 4 5 6 7 8 Possiamo fare 4 stack di carbonio Andiamo Che vuole una sala di ferro Allora io scenderei Andiamo a vedere un attimo Che ci faccio questa sella Io invece Svoterei l'inventario Visti Perché se c'è da sminare Io vorrei andare con l'inventario pulito E non c'abbiamo legna Eh non c'è l'inventario Eh legna La prende Faccio la legna Oh mio dio Qua si scende È l'unica cosa Che mi preoccupa Sinceremente È il fatto che Queste restano lamp Sono buone Non fanno sponare i mob Sì Infatti Però Però ci sono delle Ci sono delle torce Diretto che Sapete che cosa servono Passaggi segreti Aspettami Aspettami Non lo so C'è due solamente Abbiamo legna No Sono messi a caso Sono messi Scusate Allora Devo trovare anche Il bello di questa cosa È che serve anche per una quest Serve Infatti c'è L'Egyptian Temple Sì infatti C'è scritto Allora Da qualche parte Sotto la sabbia Nell'arenaria Si nasconde Si nasconde Un piccolo tempio Con strani Insegnature Insegnature Sì E poi dice A guardia ci sono serpenti I quali I quali occhi Possono vedere Attraverso la notte Bello Ma io Ho buttato Tata Allora L'ho trovato Era nascosto Ci stanno i serpenti Aspetta Però fammi Dove Aspetta Non lo so Centorani C'è scritto Serpenti Oh C'è stato Una cesta Vieni Ho trovato Una cesta Qua Ma Ma C'è Ok Schiaffotto Di Vedere Me Non Guardare Cosa Trovo Ulisse Qui sotto Un minuto Di Una cesta Nascosta Ah Dici Che due piccoli Bastano Ho trovato Anche La Glouston Mi preoccupa Non so Se Glouston Ma Quando A Scala No Ce ne Stanno Tre La Scala E Una Parano Che Stanno Dietro Un Tra Avete Qua Sare Come Che Sta Friando Non ti Vedo Lì Prenderò Quella Tipo Figa Ma C'è Una Cesta La De I Soldi I Soldi Ho Preso I Soldi I Soldi La Soldi Allora Però Lì C'è Scritto Da Qualche Parte Sotto La Sabbia Quindi Adesso Ci Sono Due Ceste O Una Piuma Che Bello E Che Schifo Che Schifo Bene Soli Distruggi Un Attimo Quello Sto Deve Che Qualcosa Sotto C'è Derto Però È Un Trabocche Dove Nellano Da Qualche Parte Sotto La Sappia A Vero Sa Qui C'è Un Buco Non So Adesso Si Servo Qualcosa Ci Sono Due Di Buchi Qua C'è Un Altro Abbastanza In Profondità Guarda Allora Lì Attento Esatto Però Dice Sotto All'arenaria Quindi Non può Essere Che Sta All'aperto C'è Dell'arenaria C'è Scritto Andiamo Andiamo Giù Da Qualche Parte Sarà Della Nella Guarda L'anni Vali Qua L'arenaria Parle Guarda Qui c'è Dell'arenaria Ulisse Raga 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 Ho trovato L'arenaria Abbiamo Trattato Nel carbone Tornate Su Abbiamo Delle scale Le portate Bello Ho trovato Due Manca Che Ci Faccio La Morte Ho Trovato Quanti Materiali Questo Non è Casuale Questo Non è Casuale Dove Siete Minare Brutto Anche O Del Cooper Del Cooper Io Sto Cercare La Domba Del Faraone Loro Sminono Cosa Facciamo Under Quarry Si potrebbe Fare Però Tantissimi L'argomento De loro Lì Che c'è C'è La Raga Ma qui c'è Tutto Spawn Di Mob Promete F7 C'è Seri Qui c'è Instagram Che c'è Se Non scendiamo Per il momento Che dite Raga Trovato La tomba Del faraone Andiamo A esplorarla Avete Delle granate Delle bombe Non so Sarebbe utile Le cpm Ma le scale Come sediamo Ragazzi Sono venuti Senza Scala Niente Che viaggio È Questo Non porta Mai niente Ma Le scale Non la colonna Zoula Zoula Lui è il mining Estremo Ma lui è l'inutilità Oh mio dio Siamo ricchi col quarto Adesso No davvero Abbiamo troppo Ma io come stavo Sto zoula C'è tantissima roba Qui sotto Ma io Poi vorrei Scendere il risotto Eh io vorrei Salire in cima Sto facendo Un parkour Ragazzi Sono le torce Tante torce Io intanto sto facendo Un parkour Per risalire Qualcuno che ci fa Nella scala Magari La sto facendo Ulisse Guarda la scala C'è Seguila Seguila L'ho già fatto Vai sali Aspettiamo Qua c'è del ferro Per noi è il ferro Qua Ecco Che è sto buco L'hanno arrivato in cima Ok Ha preso Quaia di ferri Oh guarda quanto ferro c'è Buono Oh chi è Comunque dicevo L'area in aria Sta qui Eccola Eccola È arrivato lui Eccola È arrivato Il genio È perché l'avevo vista prima Fermo 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 Ma guarda se muori Quanto rido Ecco Zola ha già aperto qualcosa Zola non aprire le cose Che non devi Aspetti Ulisse Aspetti Ulisse Voglio farvi vedere lui Vediamo No niente Niente lui C'è in aria C'è in aria C'è in aria C'è in aria strana Spacchiamola Spacchiamola C'è un altro Quanto ce n'è Non c'è niente Oh 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 porca Aiuto Vabbè 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 Ucciso La torcia Torce Ragazzi torce Non ce l'ho Avete del legno Io Non c'ho nulla Vabbè Scaviamo sta terra Dai scaviamo sta terra Ce l'abbiamo Stato Aspetta Aspetta No Aspetta No Ulisse Arrivo Arrivo C'è questi Questi erano i serpenti Tu chi parlava No I serpenti Sarebbero quelli Le iscrizioni A serpente Eh appunto Vicente I disegni del muro Esatto C'è serio Io pensavo chissà quale Basilisco veniva fuori Gli manca Harry Potter C'è una cesta Comunque mi aspettate Un attimo Che io Se tocchi qualcosa Di spezzo le gambe Aspetta Fa prendere i torci E copriamo la cesta Tranquilla Oh my god Cosa c'è dentro Non vedo Nulla 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 Che scherzi Aspetta Ti fanno vedere i ragazzi Eh non si vede niente È tutto buio Ve lo fa vedere infatti Ah ecco il serpente Eh le vedi Sei serpente Speriamo quando fanno No questo qua sotto Aspettate Sto arrivando Ma pure sulle pareti Guardali No ma non è tanto quello Guarda questo Ah si è vero Sto arrivando Sto arrivando Ah dove la c'è Finalmente le torce Oh ha svuotato tutto Oh Facciamo Facciamo un po' De pay to win Scusate Eh facciamo Eh vabbè Ma più che altro Mi fai la finisci La quest del tempio Scusate Eh finisce Questo del tempio E chi l'ha presa Sono Manuel dei taxi Sono che c'è Sono di Fai Manuel detect Vai Dov'è 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 Mi sono A questa del tempio È l'unica Perché le raccolte Se non la devi fare Nona Ok ce l'ha fatta Vai Ah puoi prendere Tanto uno Puoi prendere queste Ah tre o uno Voi che prendete Ma non le fa prendere Scusa È buggato È buggato È buggato È buggata Raga non mi fa clamare Ma com'è È buggata Zio ma te te l'ha fatta prendere No Ma ragazzi è buggato È buggato C'è le cose più fighe Ci mancano What the fuck Beh pigliate Quattro west Quattro zaini Ci dava No io voglio Quattro zaini Non mi interessa Eh diciamo Farci qualcosa tipo Tuberus flux Capacitator Capacitator Staccare sto Sto minecart Non puoi andare da tante parti Ciao Zunise È una merda Ok Posto Andiamo Intanto esplode qualcuno A casa di Dettagli Siamo a 30 minuti Copriremo perché Abbiamo un problema Quasi Sì non lo so Vabbè abbiamo trovato Il tempio segreto Abbiamo trovato la miniera Infinita No perché Adesso cambieremo il mondo Loro due Adesso ce ne andiamo Sì ciao Bella Perché Vabbè No no io voglio La miniera La voglio trovare Sì poi la scaviamola A me non voglio La scaviamola off camera Sì anche Io andrei nel prossimo Bioma direttamente Nel prossimo video Quindi Ok Quindi ragazzi vi salutiamo Di sole rimarrà qui Chiudi 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 Chiudilo dentro Ti immagini Chiudilo 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 Non so Non so se Chiudilo il bioma Che succede Chiudilo dentro Vai Chiudiamolo dentro Vabbè ragazzi Salutiamo Ci vediamo nel prossimo episodio Se il video vi è piaciuto Non ne scrivetevi da sol Perché lui E niente Mettete un bel like Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti